Tu hai la tua principessa? Senti? Ah sì, Rarity? Anche me senta. E anche me. Anche me. Anche me. Sentite, ma come me? La puntata non si sarà be... fatta un po'... no, è tutto semplice. Guardate là, non c'è più. Sì, non c'è più, è vero. Ma se potrebbe ritornare? Non preoccupatemi. Non apparirà più. Meno male ci sei tutta, Lait. Tu, Lait e Princess. Ascolte... no, 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 preoccupatemi. Guardate le vostre cascose. Bello. Ah sì, è vero. No, 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 non risunerà. Guardate che poi non risunerà. Sì, è vero. Allora, dobbiamo fare una ritornata o una media? Ehm... non lo so. Ehm... allora... chissà dove l'ha... dove l'ha messo. Ecco io. Ascoltate, ora voi dovete seguirmi perché... andiamo. 3, 2, 1, chi siete voi? 4, 5, 6, eccoci qua. 3, 2, 1, chi siete voi? 3, 2, 3, 4, voi? 3, 1, chi sale unphoria... 3, 1, chiarete la prossima, amici? 3, 2, 1, chiarete la prossima.